di non arrendersi mai e di prendere tutto quello che il campo gli sta insegnando perché tutto quello che un giorno adesso sta imparando un giorno se lo ritroverà addosso il nostro corso il nostro corso è un corso che è un corso che non è possibile e questo è un corso che è un corso che ti è sempre un corso che non è possibile e anche il tuo corso che è un corso che è più importante il corso che mi senti davvero a cura perché questo corso è un corso che non è cambiato che avevano i nostri metri spettatori. Credo che il deporte in generale cambia molti vidi, il deporte in generale e il fútbol a nivel particolare. Credo che è uno dei deporti che più lo muove e penso che sì, che può cambiare il mondo. Grazie a tutti!